Benvenuti amici in questo nuovo video, oggi siamo sul lifting simulator E chi è questo bullo qua, mannaggia? Toh, una forchettata, tiè? Ma non gli faccio niente Comunque, ragazzi, stavo dicendo che in questo gioco per fare tanti muscoli e diventare sempre più forti Dobbiamo sollevare, solleva oggi, solleva domani Qui ci vuole un sacco di tempo per sollevare e per fare tanti muscoli Qui ci vuole un'idea Seguite il video e vi faccio vedere che cosa ho escogitato per fare tanti muscoli senza neanche fare un click Per creare un mouse che ci permette di fare tantissimi click Quindi anche tantissimi muscoli sul lifting simulator Occorre una scatola di derivazione tipo questa Senza nessun tipo di foro Ma personalizzabile in base ai componenti che dobbiamo inserire all'interno di questa scatoletta Occorre un pacco batterie E qui mi fermo un secondo E vi spiego che è vero che si può recuperare l'alimentazione della 5V direttamente dalla porta USB del nostro PC Ma per evitare corti circuiti io vi faccio utilizzare un pacco batterie con 4 pile ricaricabili E due viti ovviamente di fissaggio per il pacco batteria Poi abbiamo bisogno di un relay da 5V sulla bobina Perché un relay? Perché il relay ha un contatto pulito Quindi non rischiamo di fare corti circuiti con il PC Questa è pura sicurezza Ve lo garantisco ragazzi Poi abbiamo bisogno di un interruttore recuperato da un vecchio PC Abbiamo bisogno di un integrato fondamentale Un NE555 Poi abbiamo bisogno di un condensatore elettrolitico da 2,2 microfarad 10V o superiore Poi abbiamo bisogno di una resistenza variabile o detto anche trimmer da 100K Infine abbiamo bisogno di un mouse In questo caso utilizzo un vecchio mouse con una vecchia porta USB Quindi è quello che mi serve per fare questo esperimento E poi se volete ma è un'opzione in più Io vi dico di utilizzare un porta led da 3 mm Un led blu da 3 mm E una resistenza da 220 ohm Per segnalare l'alimentazione inserita di questo circuito Ma è un'opzione perché alla fine anche se non si vede il led che si accende Comunque si sente attraverso il ticchettio di questo relay E' un po' come quando andiamo a cliccare il nostro mouse E' la stessa cosa che farà questo relay al posto nostro Adesso vi faccio vedere lo schema a monitor E insieme ci ragioniamo sopra Questo è lo schema elettrico che ho disegnato appositamente per voi Per i più esperti sicuramente non ci sono molte parole da dire Ma lasciatemi dire due parole per i meno esperti Dunque partiamo dall'alimentazione Utilizzo 4 pile di tipo AA Quindi un'alimentazione di circa 5 volt Perché le pile sono da 1,2 volt Questo è il ramo negativo e questo è il ramo positivo Il ramo positivo è collegato a un interruttore Che a sua volta se premuto Manda l'alimentazione fino al pin 8 e 4 del nostro NE55 Notiamo anche che sul ramo di alimentazione E' connessa una resistenza da 220 ohm e un led Questi due componenti sono opzionabili Praticamente che cosa succede? Che quando l'alimentazione attraversa la resistenza Il led si accende quindi azionando l'interruttore di ON Accendiamo il led Quindi ci indica che l'alimentazione è arrivata al circuito Ma serve e non serve E' una cosa in più che se volete la mettete Perché comunque il rumorino del ticchettio del nostro relay Ci indica comunque che l'alimentazione è accesa e sta funzionando Poi notiamo anche che Sempre sul ramo di alimentazione E' collegata la bobina del relay In questo caso il pin 2 Il pin 1 è collegato al GND Quindi al negativo della nostra batteria Il pin 2 è collegato a un condensatore elettrolitico Quindi polarizzato Infatti notiamo che il più è collegato al pin 2 E il negativo è collegato sempre al GND Questo condensatore ha un valore di 2,2 microfarra 10 volt Al pin 6 ho collegato una resistenza variabile da 100k O detta anche potenziometro Se noi andiamo ad agire su questa resistenza Cosa succede? Che il nostro relay andrà più veloce o meno veloce Quindi il ticchettio sarà più o meno veloce Ho preferito utilizzare un contatto pulito Perché a questo contatto dobbiamo collegare il nostro mouse E sappiamo benissimo che il mouse è collegato al nostro PC Attraverso la porta USB Quindi è una scelta, secondo me, giusta Utilizzando un contatto pulito Non andiamo a collegare altre tensioni di alimentazione Al nostro computer attraverso il mouse Perché sennò viene fuori un patatrack Adesso non ci resta altro che provare il tutto Metterlo insieme e fare un test di prova Per prima cosa dobbiamo aprire il mouse E individuare il pulsante di sinistra Questo è il mio Nella parte sottostante della scheda Vado a saldare due fili Uno per contatto Per mia comodità voglio recuperare anche tutto il box Quindi andrò anche a rimontare tutto il mouse Una volta richiuso il mouse Ottengo due fili sporgenti Attraverso il foro che ho fatto In questo tipo di mouse Ho un cavetto di tipo USB 1 Quello vecchio Da agganciare in questo modo Per poter far uscire il filo dalla scatoletta Ho creato un foro bello grande Dove il connettore entra in maniera perfetta Per richiudere questo buco Ho pensato di utilizzare Un tappino grigio Con un foro all'interno E un taglio Per poterlo inserire nel filo In questo modo Ok Andiamo a vedere se l'effetto Perfetto Così Di modo da ridurre La circonferenza del foro Che ho dovuto fare Per far entrare il connettore Ovviamente poi Andrò a incollare il tutto Una volta fatto entrare il filo Posso finalmente collegarlo E inserirlo nel nuovo alloggiamento Così Con un po' di colla caldo Vado a fermare il mouse Per poter bloccare il connettore E non farlo strappare dal mouse Vado a mettere un po' di colla caldo In modo da bloccarlo In maniera definitiva Diciamo un antistrapo Poi vado anche a mettere Un po' di colla Nel fondo della scatoletta In modo che il mouse Non scappi più E resta bloccato Per bene Nella sua sede Ora devo cercare di inserire Il mouse più dritto possibile In corrispondenza del foro Per fare uscire il filo In maniera perfetta Per essere centrato anche con Con il tappino Una volta centrato Posso inserire il tappino Che chiude definitivamente il foro E lo riempio di colla Per bloccare il tutto Così tappino e filo E anche il mouse Restano incollati All'interno della scatoletta Finalmente ecco qui Il circuito completato Come ho spiegato Nello schema Non sono molti componenti Ed è anche molto piccolo Ovviamente questa è una vasetta Di recupero Tanto non è un discorso Di estetica Qui è soltanto un discorso Di funzionalità Poi in questi giorni di vacanza Diciamo che ci dobbiamo arrangiare Visto che non possiamo uscire di casa E dobbiamo utilizzare Quello che Quello che si trova in casa Questo è il circuito completato Adesso con questo circuito Lo posso finalmente inserire All'interno Del box Incollato qui sopra Con tutti i collegamenti Saldati Tutti i fili E tutto quello che serve Nell'altra parte del coperchio Ho inserito Il led E questo è l'interruttore Con l'alimentazione Del pacco batteria Infatti vi faccio vedere Che qui C'è Il pulsante On Off Il led E il pacco batteria Per motivi Pratici Ho deciso di metterlo Nella parte esterna Si poteva anche mettere All'interno qui Ma ogni volta Poi bisogna aprire la scatoletta Per cambiare le pile Ed ecco qui Il progetto terminato Come vedete Tutti i fili Sono stati collegati Correttamente Come lo schema Che vi ho spiegato Adesso però Siccome che è molto realistico Il click Che fa questo Relais Devo ammortizzare Un pochino il suono Utilizzo Un pezzettino di gomma Da mettere all'interno Della scatoletta Per evitare Che fa troppo rumore Quasi fastidio Adesso vado A richiudere il tutto Facendo attenzione A non tagliare i fili Perché se no Devo rifare tutto Chiudo E vediamo insieme Un po' Come funziona Anzi Sentiamo E vediamo Se il led si accende Ok Il led acceso E il relè Sta già iniziando A cliccare Ovviamente Devo collegare Il mouse Al computer Fare una partitella A questo gioco E vediamo un po' Che cosa succede Bene amici Eccoci qua Finalmente È arrivato il momento Di provare Quello che ho costruito Alla fine Questo è un mouse Diciamo Automatico E l'immagine Che vedete È quella di sinistra Invece A destra Del monitor C'è un'immagine Di un software Quella lì Col topolino Adesso vi metto Anche in descrizione Il nome di quel software Così Se lo volete Scaricare È completamente gratuito E lo potete anche usare In pratica Fa la stessa cosa Di quello che ho costruito Io Questo è meccanico Diciamo Elettronico Meccanico Invece Quello è un software Che viene gestito Direttamente dal sistema operativo Di windows Quindi Vi occorre installarlo Su un pc Fisso O portatile Non su tablet Non so se su tablet Esiste un'applicazione Del genere Comunque Stavo dicendo Facendo delle prove In questi giorni di vacanza Ho notato Che comunque Il mio Non si è mai bloccato Sulla schermata Di roblox Invece Quel software Ogni tanto Veniva a fare La scritta di Roblox Bloccato La conoscete tutti Quella noiosa scritta Che dice Dovete Riavviare il gioco Insomma Se riesco Vi metto anche In descrizione Quell'immagine Ma perché Si continua a bloccare Questo software Qui sotto Secondo me All'interno del gioco Esiste un algoritmo Che riesce a capire I tempi E anche Diciamo La velocità Dei click Oppure Non so Farà un check up Dei programmi collegati Adesso Non so bene Come funziona Il discorso Di capire Se viene usato Quel tipo di programma Tra l'altro Informandomi in giro Ho capito Che si chiama Una specie di Imbot Una cosa del genere Praticamente Sono quei software Che vengono gestiti Da quelle persone esperte Che non voglio dire altre cose Che comunque Fanno Lo fanno di proposito E di lavoro Per guadagnare Quindi Viene utilizzato Anche per fare quelle cose Nel mio caso invece Ho voluto creare Questa scatoletta Per impegnare un po' Il tempo E per divertirmi Con mio figlio Valerio Infatti ci siamo divertiti Un mare In questi giorni qua Esperimentare E approvare Tutto quello Che diciamo Fa parte anche Del programma interno Dell'NE55 Quindi Un piccolo studio Su come Utilizzare Quel piccolo chip All'interno Di questa scatoletta Adesso Che ho parlato troppo Lo proviamo Dai 3 2 1 Via Luce blu Accesa E I muscoli Si fanno grandi Qui E vai Infatti Notiamo Che qui sotto I muscoli Stanno andando bene Bene amici Allora siamo arrivati Al termine del video Spero che questo tutorial Per costruire Questo mouse Lo utilizzate Per fare altre cose E ci vediamo Nel prossimo video Un saluto a tutti Ciao 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 Grazie a tutti